...nazionali 2023 CIS sono due atlete, ci presentano uno showcase di baciata e di merenghe, posizione e base! ...nazionali 2023 CIS sono due atlete, ci presentano uno che non mi piace di baciata e di merenghe, posizione 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 e di merenghe... ...soi scusa mi ingramata, ella me lo crea, e tu di otra mentirita, la idiota che... ...quittate la ropa lentamente, per essere contigo, che lo mani suonare, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe... ...nazionali, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe... ...nazionali, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe, posizione e di merenghe... ...Martina e Martina, vice campionesse nazionali, 2023! ...la unica bata che tocca... ...nazionali, posizione e di merenghe... 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 E finale! Martina e Martina, Scuola L.I.F. Grazie ragazze! E concludiamo gli spettacoli di stasera. Torna la nostra scuola di Forlì, Paese dei Balocchi, Miss Alsa. E stavolta ci presentano la loro coreografia di Bacciata Sensual. Vai con l'applauso!